Buona giornata amici da Massimo Fughetti. Oggi è lunedì 13 febbraio 2023. Iniziamo insieme la settimana e vediamo subito che cosa ci dicono i giornali questa mattina. A livello nazionale abbiamo delle notizie contrastanti. Da una parte abbiamo notizie leggere, anche se impinate da qualche polemica, come il Festival di Sanremo, come il Carnevale che impazza un po' in tutta Italia. Dall'altra invece abbiamo delle notizie veramente drammatiche che ci provengono dalla Turchia e dalla Siria e ci provengono anche dalla Ucraina dove furoreggia la guerra e dove appunto morte e distruzione si accumula di giorno in giorno. Ebbene due notizie contrastanti che evidenziano come il mondo oggi è assolutamente contrastante tra se stesso. E noi comunque vediamo le notizie di carattere locale dove queste cose sono molto molto attenuate e dove si parla più di spensieratezza che di problemi, almeno nella giornata di oggi. Comunque procediamo come sempre con l'almanacco del giorno per vedere chi festeggia oggi la Chiesa Cattolica. Ed eccolo qui nella grafica vediamo che oggi si venerano Santa Fosca e Santa Maura, martiri del III secolo. Originarie di Ravenna e particolarmente venerate nell'isola di Torcello, nei pressi di Ravenna dove esiste anche una chiesa a loro intitolata, entrambe furono uccise con la spada sotto l'imperatore Decio dopo essere state flagellate. Santa Maura è considerata modella delle nutrici cristiane mentre Santa Fosca è sua figlia di latte. Quindi un connubio veramente stretto tra madre putativa e figlia. Insomma era la baglia. Vediamo le previsioni del tempo. Prosegue la fase di tempo stabile sulle Marche con qualche annuvolamento in ediradamento però nel corso della giornata. C'è un rialzo termico, fa più caldo rispetto ai giorni scorsi e temperature si aggireranno tra i 3 gradi per quanto riguarda la minima e 9 per quanto riguarda la massima. I venti spireranno da una direzione di nord-ovest sulle coste e da est e nord-est nell'interno il mare continua a essere mosso. Ed ora apriamo i giornali a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano dove vediamo che si parla di carnevale. Carnevale non stop per quasi 24 ore è il titolo. Sì perché ieri è stata una giornata tutta immersa nel carnevale. Dal primo mattino cioè da quando sono partiti i ciclisti di forbici in maschera che hanno portato l'annuncio del carnevale a Pesaro percorrendo la pista ciclabile Fano-Pesaro distribuendo volantini ma distribuendo anche dolciumi per far assaporare la vera natura del carnevale fanese fino al carnevale dei bambini che un'ora dopo ha furoreggiato in Viale Gramsci un grande corteo che ormai assume come qualità e come valore lo stesso livello del grande corso mascherato del pomeriggio. Tantissimi i bambini intervenuti tante le scuole rappresentate e qui bisogna fare anche un omaggio alle insegnanti e a tutti coloro anche le famiglie che si sono impegnate per realizzare le mascherate e poi i carri di seconda categoria. Il corteo poi da Viale Gramsci è penetrato in centro storico attraverso l'arco di Augusto fino a riunirsi in piazza 20 Settembre dove è continuata l'animazione degli animatori di Art Fan Animation e quindi ancora divertimento, ancora allegria e ancora dolciumi per i bambini. E poi nel pomeriggio, nel pomeriggio il grande corso mascherato, tantissime le persone, il numero del pubblico è stato addirittura superiore a quello della prima sfilata di domenica 5 febbraio, insomma c'è stato veramente di che divertirsi e molti, molti sono stati anche le persone che sono arrivate da fuori Fano così per divertirsi e richiamate dalla promozione che è stata fatta anche a livello nazionale dai mass media. Una manifestazione che riverbera i suoi effetti positivi anche sulla economia perché molti ristoranti, molti bar, negozi hanno lavorato e c'era anche un mercatino ieri nel centro storico di Fano, un mercatino dell'artigianato con tante bancarelle, con merci, prodotti curiosi appunto esposti al pubblico. Dunque Carnevale non stop per quasi 24 ore e vediamo anche come il resto del Carlino annuncia questa iniziativa. Super Carnevale di Fano accorrono 13 mila persone e Mirko Carloni, l'onorevole Mirko Carloni, deputato appunto alla Camera, si veste da Cardinale Mazzarino, benedicente la folla festante. Massiccia presenza di forze dell'ordine, sono stati aumentati gli agenti che hanno osservato il controllo, che sono stati adibiti alla sorveglianza e le postazioni della Croce Rossa. Comunque non c'è stato nessun incidente, quindi tutto si è svolto in maniera normale e in maniera pacifica. Gran pienone per la seconda domenica di Carnevale di Fano con oltre 13 mila persone e la conferma dell'alto gradimento della manifestazione. Tantissime famiglie sono arrivate dalla Romagna, dall'Umbria, ma anche da regioni lontane, approfittando della bella giornata che ha regalato temperature più miti rispetto ai giorni scorsi. La festa poi, il giornale parla della festa del mattino, parla del Carnevale in sup, della sbiciclettata verso Pesaro del Carnevale dei Bambini e della grande partecipazione delle scuole. Quindi una grande manifestazione che verrà replicata domenica prossima, 19 febbraio, e nella settimana abbiamo anche le manifestazioni del Giovedì Gras, tutta dedicata ai bambini, e poi l'ultimo giorno del Carnevale, il martedì successivo, appunto al 19, con il rogo del Pupo in piazza. Vediamo le altre notizie. Ritorniamo sulle Corriere Adriatico e vediamo come c'è una notizia di cronaca. Monossido in sette al pronto soccorso. Monossido di carbonio, un gas veramente letale, che si sprigiona generalmente dai braceri. Il gas fuoriuscito dalla stufa a pellet, in questo caso. Allarme a Marotta, intervengono il 118 ai vigili del fuoco, una donna intossicata dalle esalazioni. Doveva essere questo un tranquillo pomeriggio di domenica, ma il malfunzionamento di una stufa a pellet ha fatto scattare i soccorsi ieri in via delle regioni a Marotta. L'allarme è partito dopo alle 18, a causa di un malore accusato nella famiglia. Sono intervenuti appunto gli operatori del 118 di Marotta, che hanno rilevato la presenza all'interno dell'abitazione di monossido di carbonio. Un gas in odore e in colore molto insidioso, perché può causare gravi intossicazioni fino a condurre alla morte coloro che lo inalano. In questo caso l'abitazione era affittata ad una famiglia extracomunitaria, che probabilmente non si rendeva conto del pericolo a cui andava incontro. Ebbene, chi ha subito gli effetti peggiori è stata una donna, che è stata subito ricoverata al pronto soccorso di Fano per una intossicazione respiratoria. I vigili del fuoco, allertati dal 118, hanno accertato appunto l'origine di questa intossicazione. E poi vediamo invece che a lato c'è un'altra notizia un po' più leggera. La presentazione di un libro, di un libro scritto da un personaggio noto a Fano, si tratta di Paolo Casisa, un personaggio estroverso, molto molto amico dei bambini, un personaggio amante della musica, scritto dei libri sui complessi e gruppi musicali, i cantanti che hanno così relegrato la città per diversi decenni. Insomma, un personaggio molto molto popolare, che questa volta ha scritto un libro intitolato Il Lombruco, non Il Lombrico, perché una volta diventato padre si è reso conto di come la fantasia potesse veramente stabilire un rapporto molto molto stretto con il proprio figlioletto. era diventato padre da poco, e di qui l'idea di scrivere Fiabe. Fiabe che ha mantenuto per dieci anni nel cassetto ed ora le ha pubblicate. Il libro si acquista online, un e-book, 10 euro è il prezzo, e non solo si parla di fantasia, di cose che così coinvolgono i bambini, ma c'è anche molto di Fano dentro questo libro, quindi un libro interessante che è stato presentato anche dal sindaco Massimo Seri. e vediamo qui l'autore insieme al sindaco in questa fotografia. E poi a fondo pagina il Corriere Adriatico ci propone un focus sulla cultura. In previsione della mai accertata vittoria di Pesaro come capitale nazionale della cultura per il 2024, una iniziativa che coinvolge anche le città vicine, Fano non si lascia perdere questa occasione. E appunto in occasione della capitale della cultura, l'assessore alla cultura Cora Fattori ha convocato le associazioni di volontariato per realizzare qualcosa insieme a loro. E ha ottenuto subito la disponibilità. È un'occasione anche per Fano, ha detto la Fattori, e la capitale della cultura pesarese. E il primo passo è stato quello di riunire i 50 associazioni fanesi che collaboreranno con l'amministrazione comunale per promuovere la città di Fano. A Marotta è stato aggiornato il piano dell'emergenza, se ne parlerà mercoledì prossimo in Consiglio Comunale a Mondolfo. Verranno delineati gli interventi urgenti per riparare i danni di gennaio. Allargamenti, erosioni, danni al litorale. L'ondata di maltempo che ha ripetutamente colpito le Marche, in modo particolare anche la nostra zona della costa, la zona costiera, verrà analizzata e verrà dibattuta proprio in Consiglio Comunale mercoledì sera. Interverranno l'assessore Filomena Tiritiello, che illustrerà i lavori, quelli compiuti con somma urgenza, quelli appunto veramente necessari, dovuti agli eventi meteorologici avversi, meteorologici, scusate, avversi, ed eccezionali, avvenuti il 21, il 22 e il 23 gennaio appunto scorsi, e il riconoscimento della legittimità della spesa. Insomma, erano spese certamente opportune. A fondo pagina, il riconoscimento ad un personaggio veramente particolare per quanto riguarda il mondo della ristorazione, si tratta di Rolando Ramoscelli. A lui è stato attribuito il premio della Confcommercio, l'Ostar della ristorazione. Rolando Ramoscelli è un cultore della gastronomia locale, ma anche un uomo di cultura, e ha pubblicato diversi libri di ricette, su cui non si danno soltanto gli ingredienti, ma si dà veramente un'espressione poetica a quello che un cuoco che ha un rapporto particolare con gli alimenti, con la cucina, sa creare. Quindi è veramente un personaggio di cultura, cultura gastronomica. A Senigallia, a Senigallia, un semplice avvertimento, una semplice domanda. Ragazzi, cosa fate fuori del mio hotel? Ebbene, la reazione è stata in consulta. Due ragazzi hanno minacciato un albergatore che aveva fatto loro questa domanda con un coltello. Paura sabato in centro. Due ventenni della Vallesina sono stati denunciati dai carabinieri. Ebbene, un albergatore è stato minacciato con un coltello da questi due ventenni perché aveva solo chiesto cosa stessero facendo fuori del proprio hotel. Per fortuna, per fortuna, il tempestivo intervento dei militari ha scongiurato il peggio e due giovani residenti della Vallesina sono stati denunciati per minacce e porto di oggetti atti ad offendere. Uno per minacce e quell'altro, quello che ha tirato fuori il coltello, per il porto di oggetti atti ad offendere. L'arma da taglio è stata ovviamente sequestrata dalla pattuglia che era intervenuta. Vediamo ora qualche notizia di Pesaro sul Corriere Adriatico e vediamo come l'attenzione si ferma su un argomento che non è solo pesarese, dovremmo dire, è un po' di tutte le città, delle Marche, non solo della provincia di Pesaro-Urbino. Si parla di buche in strada, vediamo qua di inquadrare meglio il titolo, per le trappole della strada fino a 50 richieste al giorno. Quelle buche vanno chiuse. Ebbene, in cinque anni, pensate, sono state inoltrate al consorzio a cui il Comune ha delegato il compito appunto di curare la manutenzione delle strade 20.000 segnalazioni. Il consorzio è il Mobility Pro. I pesaresi dunque si fanno sentire. Ebbene, vediamo su questa tabella com'è la situazione. Dalle 2018 al 2022 sono state 23.229 le richieste di intervento che sono state inoltrate alla Mobility Pro. 12.824 sono le buche i marciapiedi dissestati i danni all'asfalto e al porfido alla superficie in porfido che sono state segnalate. 5.085 i cartelli caduti 3.529 le strisce pedonali da rifare 670 i semafori rotti 270, qui sarebbero ancora di più 278 i tombini otturati 103 i lampioni fulminati 93 le potature 14 la sporcizia nei parchi 40 gli allagamenti dei sottopassi 17 la presenza di immondizia per strada e poi altre 576 denunce segnalazioni che hanno riguardato altri altri casi. Dunque i cittadini, dobbiamo dire collaborano attraverso foto, video e il responsabile Pianosi spiega come funzionano gli interventi dopo le segnalazioni che vengono fatte in quest'altro articolo. Ed ora un articolo che riguarda lo stabile dell'ex intendenza di finanza oggetto di cantiere coinvolgeremo i commercianti lo ha dichiarato l'assessore Frenquellucci la quale cerca di fugare i timori per i danni che il cantiere potrebbe provocare allo svolgimento dell'attività commerciale e economica dei negozi in zona. Domani il Comune incontrerà l'Agenzia del Demanio e cercherà di coordinare gli interventi in modo appunto che non danneggino i commercianti. Le attività saranno coinvolte nella definizione del cronoprogramma ha detto la Frenquellucci e nel percorso di recupero dell'immobile. L'obiettivo è analizzare tutte le fasi dei lavori si cercherà di svolgere nel modo più adeguato appunto gli interventi per tutelare le attività che insistano nelle aree vicine. E poi abbiamo invece un'area di degrado che non viene bonificata da diverso tempo. Si tratta dell'area di via Paganini dove sono stati così abbandonati degli scafi delle barche in disuso. Ma è rimosso il cimitero delle barche. Dopo due anni nessuno ha fatto nulla. E le consigliere Gambini torna la carica con il Comune per l'abbandono selvaggio appunto nell'area. E in questa fotografia vediamo come una parte di imbarcazioni da di porto ormai ridotto a pezzi sia stata abbandonata. E sotto c'è il consigliere di Prima Cepesaro la lista civica Prima Cepesaro Paganini che ha denunciato questa situazione. Volete la legna del foglia? Basta fare una richiesta. L'assessore Ferraro spiega come si possono evitare le sanzioni. Raccogliere ormai la vegetazione, i rami anche alcuni alberi caduti nel greto del fiume non è più vietato però occorre seguire un determinato procedimento e quindi in questo articolo si spiega qual è la natura degli atti da fare per poter ottenere l'autorizzazione. Il Miralfiore è un parco di tutti e le sorprese andranno avanti. Ieri è stata inaugurata l'area fitness con l'impegno bipartisan di comune e regione. Un altro intervento strategico questo di valorizzazione del parco per l'Endaro sempre più di tutti quindi non solo per i giovani non solo per gli adulti ma anche per i bambini e giovani che vogliono fare attività fisica uomini e donne. Ebbene ieri mattina l'assessore Enzo Belloni assessore alla operatività di Pesaro con Riccardo Pozzi assessore del fare e Nicola Baiocchi consigliere regionale di Fratelli d'Italia sono stati presenti all'inaugurazione dell'area fitness un'operazione bipartisan appunto che ha visto l'impegno sia del comune che dalla regione Marche. Per quanto riguarda Urbino invece vediamo un fatto deprecabile perché si è disperso il percolato della discarica C. Lucio un percolato che ha raggiunto una distanza di 7 chilometri e ha danneggiato le coltivazioni biologiche di molti operatori agricoli. Quanto è avvenuto è stato oggetto anche di una interrogazione in regione da parte del capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri. Gli agricoltori chi bonifica il fosso? E vediamo come questa sostanza oleosa che fuoriesce dai rifiuti ormai ha invaso anche il territorio e procura veramente molti molti danni alle colture. E questo è per quanto riguarda il Corriere Adriatico. Vediamo ora la pagina riassuntiva la prima pagina del resto del Carlino dove c'è una sintesi di tutte le province. il Carlino è lunedì esce in edizione ridotta. Vediamo subito la pagina che riguarda la provincia di Pesaro Urbino dove si parla diffusamente del Carnevale di Fano. Fano, Carnevale Boom e Carloni fa il Cardinale. Affluenza Record alla seconda sfinata domenicale pubblico ad altre regioni pubblico che proviene anche da altre regioni e c'è questo simpatico show del deputato che ha salutato la folla da un terrazzo di una casa prospicente il percorso dei carri carnevaleschi. E poi per quanto riguarda Pesaro invece abbiamo il degrado che è stato segnalato da un cittadino in piazzale il primo maggio dove c'è una sosta selvaggia delle auto che sormontano i percorsi pedonali in giardini insomma la Iguole siccome è l'unico posto dove non si paga per la sosta c'è un afflusso considerevole di automezzi i quali parcheggiano un po' così alla rinfusa e quindi si chiede alle forze dell'ordine ai vigili urbani di intervenire. e poi contro la crisi il comune di Pesaro stanzia 2 milioni di euro alle famiglie in difficoltà e questo dimostra come ancora la crisi produca seri problemi alle persone che purtroppo non riescono ad arrivare alla fine del mese. Per quanto riguarda Ascoli è fermo e purtroppo deceduto il pedone investito nella tragedia a Castel di Lama trovato il pirata era nascosto in un bed and breakfast e poi nodo viabilità ad Ascoli Piceno la circonvalazione chiusa e protesta ore in ostaggio per una semplice partita e quindi ore e ore di fila a fermo agende chiuse e liste d'attesa visite ed esami impossibili per quest'anno le lungaggini della sanità. Per quanto riguarda Macerata invece abbiamo nel congresso del Partito Democratico in vista delle elezioni del segretario nazionale Bonaccini vince bene nella sfida a quattro invece Camerino premia Lash Lane e il comparto della moda invece va avanti va avanti con fiducia crescono le esportazioni con un più 29,3% a Civitanova per il porto in arrivo sono in arrivo 12 milioni di euro dalla regione e c'è un summit con il presidente Acquaroli in Ancona invece i cittadini sono in rivolta basta le buche stradali Ancona come pensano la situazione non cambia ma c'è anche Pan Urbino insomma molte le città che hanno questi problemi qui si rischia la vita hanno detto alcuni residenti e hanno così organizzato una manifestazione di protesta con appello alla sindaca Mancinelli questa città non è più sicura che fine fanno i nostri soldi insomma vogliono che le asfaltature costituiscono una priorità di intervento nella amministrazione della città da parte del comune e a questo punto possiamo dare un'occhiata anche alle notizie di sport dove vediamo che la gara della Vispesaro ecco qua l'articolo che la riguarda si è conclusa in parità con il Rimini il risultato è stato di 0 a 0 visse un derby numero 60 senza però sussulti finisce con un 0 a 0 il match con il Rimini grande atmosfera sugli spalti ma poco poco spettacolo un punto buono per allungare la serie positive invece non è andata bene per il Fano Calcio che ha perso la gara con la squadra di Roma la Roma City Roma City cinica e terribile un sonoro 2 a 0 ai danni dei Granata l'alma la beffa e nel finale i Granata si arrendono solo agli sgoccioli del secondo tempo e nel recupero occasioni da entrambe le parti ma il Fano viene punito da un avversario purtroppo abile e per fortuna per fortuna dei Romani e quindi questa partita si è conclusa in maniera non auspicata dai Granata dal Fano Calcio e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di questa sera con Occhio alla Notizia il Tg di Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto